Bentornati su Manatou, io sono Speck, lui è Damian, ciao! E in questa puntata vedrete un gameplay di Centurion Commander. Se non sapete di cosa si sta parlando qui, in questo link, trovate tutte le informazioni su Centurion Commander. Vedrete in questa partita scontrarsi queste due leggende, speriamo che possiate apprezzare e buona visione! Ciao a tutti e bentornati su Manatou, Damian, l'inespugnabile Speck, Centurion Commander, anche oggi, anche per voi, finale del Master 32, a naso, Kazur e Ukkima contro Oyutai, Oyutai che abbiamo visto già qualche volta sul canale, invece Ukkima e Kazur sono nuovissimi. Oyutai, il vecchietto che cerca di restare a galla, il giovinastri partner, che è distruttivo già di partenza per Oyutai andare contro due leggende. Comunque, comunque, Dualland e Urborg per Ukkima e invece Oyutai Open di doppio blu, come gli piace. Islander Arbor, è un po' distruttivo. Sicuramente fare Ponder con molta calma, aiuta sempre, eh. Sì, sì, serve per... anche un Dranith Magistrate. Una delle carte più odiate ultimamente dei Centurioni, Dranith Magistrate. Però... Fatta al punto. Subito mandato a casa. Tolto via immediatamente perché non vale la pena tenervi. Senti coso, non è giornata, levati dalle scatole. Esatto. Ukkima che entra, che è un 2-2 imbloccabile, poteva sciaffolare il mazzo ma non ne ha approfittato. Eh... Ricordatevi sempre che la meccanica Partner With vi permette di cercare nel mazzo. Se avete bisogno di mescolare, è un buon momento. E niente, qua vediamo la mano per un G-Taxian Probe. Una bella mano, direi anche. Sì, sì, sì. Due Counter, Jace. Jace. Direi che quella è la carta... Quella è la carta principale. Eh, Jace. Jace è potente, soprattutto se entra tranquillamente, non viene neutralizzato. Nel senso, tre mana open, mi aspetterei che qualcosa succeda, invece... Gli Tai dovrebbe fare quello. Già questa è una brutta situazione, cioè non avere il Counter pronto vuol dire... Eh, vuol dire non essere messi molto bene. Eh, non essere messi bene. Ok, Jace. Jace contro Jace. Spiderman meme per Jace. Sei tu Jace? No, sono io Jace. Qua ha un rimbalzino, ovvio, perché sennò Ukkima, insomma, non potendo bloccare, era lì, prendeva danni. Sì, non può essere bloccato, diventa problematico alla lunga, dire vabbè, ok, prendo sempre dei danni. Anche fare brainstorm tutti i turni aiuta abbastanza, mi dicono dalla regia. Un pochino di tempo se l'è preso, perché comunque... Ah, però, anche giocare Questing Beast senza essere neutralizzato, penso che pesa. Quando fai i danni e uccidi anche Jace. Ah, Questing Beast, quanti dolori in questa vita. E' imbarattato, ecco che... E infatti, Spatatrack. Spatatrack, direi qua. Jace, gioco anch'io a Jace, bene. Bene, fuori dalle scatole. Avanti il prossimo. Scusa. Ok, seconda partita... Sempre Ponder. Ponder, che è una carta potentissima, semplice, ma devastante, brainstorm pure. Però Ponder, sai, c'è quella elasticità un po' in più, eh. Ponder, scusa, anzi, brainstorm, miglior stregoneria di sempre. Ci sta. Ma anche Toss Eyes ci sia lì vicino con il resto. Sì, sì, sì. Impulse, bellissima. Mi piace che Utahi giochi solo nel turno dell'avversario. Beh, è un classico dei controlloni, direi. Doppio mana blu open più Field of Ruin. Ok. Buona carta, buona carta. Vediamo cosa succede. Adesso facilmente il counter c'è a questo giro, perché dopo la prima partita che non ce l'hai. Grim Tutor... Sì, beh, poi gli ha visto anche la mano, quindi... Sì. Grim Tutor. Grim Tutor. Ok, che risolve. Grim Tutor risolve. Grim Tutor... Vediamo... Eh, Grim Tutor non è male. Non è male, fa il suo, soprattutto in un formato dove gli altri Tutori non li puoi utilizzare. Direi che se vuoi un Tutore ci sta, assolutamente. Guarda, dai, quei tre punti vita giustificano anche, insomma, il costo track. In un formato in cui non ce n'hai altri direi che va benissimo così, assolutamente. Qui è Okima. Gioco terra passo. Si gioca Okima. Tails End, carta stupenda, ma... Force of Will è ancora più forte, scartando Gilded Drake. Quasi. Ok, sì. Di Gilded Drake ci sta perché Gilded Drake non è proprio di questa partita, onestamente. Cioè, non lo vedo proprio come il pezzo focale per battere Ojutai, onestamente. Ed eccolo! Il principe del contro le entra in gioco. Dragon Lord Ojutai. La situazione adesso è abbastanza stabile. Eh, non vedo delle grandi sorprese. Ok, che c'è quest in biscuit, che tutte le volte entra nel momento in cui dico, ehi, sembra una buona situazione. Però, comunque, oh, ne si dà e ne si prende. Sì, sei danni contro cinque danni e vantaggio carta, insomma, ci può ancora stare per Ojutai come scambio. Cioè, sicuramente non vale la pena bloccare, ma vale la pena fare danni da comandante e fare vantaggio carta, che serve in quel mazzo lì. Sì, la situazione è ok, insomma, qua si manda agli una terra. Wasteland non si dice mai. Deadly, Frollick. Deadly, ma First Guardianship, ok. Ancora parità, palla al centro. Sì, bello, bello, bello. Diciamo che... Uh... Dopo l'attacco, il secondo del Wretch, bene. Cioè, tante terre che non è... Negei. Negei. Aveva fatto il doppio blu nella speranza, ma c'era un Negei. Sperava di... Si ricordava probabilmente del counterspell... Che dire, la situazione qua è abbastanza strana, nel senso che da un lato... Adesso è ferrone. Da un lato Utae fa vantaggio carte, picchia anche molto forte, onestamente. Intanto, il giocatore di Ukkima e Kazur è rimasto a tre terre, quindi non è proprio ideale come situazione. Non è una bella situazione, no. Ma, ovviamente, Ukkima si porta via Tefferone. E... Uh... E Liliana si porta via Uyutai. Ai ai ai. Era un meno due telefonatissimo. Ai ai ai, caramba. Eh... No, è... Adesso la situazione è molto più difficile. Cambia. Liliana è cattiva contro i control. E contro Uyutai, che può far sacrificare una creatura, è molto pesante. Non è facile, ok. Mystic Santuari cercato con la Fex, che ha ripreso il Guardianship. Rigiocato Uyutai. C'è un po' di tempo perché, appunto, Lillie adesso fa scartare a tutti e due una carta, che è una terra e il Tangle Wire, che se sei in svantaggio di permanenti... Direi che è un momento a giocarlo. Eh, il problema... Uh, Uro. Uro. Uro è un problema, eh, nel senso che... Ti tiene molto a galla quando tu fai cinque danni e nei due danni tre, sono due danni alla volta. Quando sei anche obbligato ad attaccare Liliana, perché sennò ti fa sacrificare Uyutai, e i tuoi Uyutai si fanno al giocatore. Quindi, problema. Assolutamente. Eh, terra che si trova, Uro che ritorna. Uro che ritorna. Un detto che sentiremo molto nei prossimi anni, mi sa. I vecchi del futuro diranno questa cosa, i saggiti. Esatto, sì, sì, sì. Eh, la situazione è un po' complicata. First Guardianship ti protegge, ma non ti risolve Uro. E adesso, se non ricordo male, con la conta, dovrebbe essere arrivato anche questo. Perché ti sono messo il secondo o il terzo sulla Cina. Il 2019 barra inizio 2020 tutto in campo. Esatto. Tutto il delirio di 2019-2020 tutto in campo. Adesso la situazione è molto complicata, perché il Castello Bianco ti permette effettivamente di tamponare Uro, tra virgolette. Però, io non so come sommessi quei danni a comandante. Sì, venti con questo. Quindi siamo lì. Venti con questo attacco. Quindi la situazione è delicatissima. Qui poi, Dark Steel Mutation, cavolo. Path to Exile, bene. Cioè, si sta ristabilizzando Utahi, secondo me, al barlume di speranza. Per riuscire, è fattibile. Sì, 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 sì. Non siamo... Non è senso. Uno. Basta poco, eh. Counter. Dipende se c'è la risposta. Ah, no, deve stappare Utahi, niente. Non ha la risposta. Ah, deve stappare Utahi per riuscire a bloccare. Sennò muori subito. Eh, sì, sì, sì. Ah, quando si è uno è dura, eh. Le scelte sono poche, ecco. Sì, sì, sì. Finché non si è a zero non si perdono. Quando si è a uno, dopo diciamo che le scelte sono poche davvero. Eh, sì, un po' pesante, ecco, diciamo. Qui una carta in mano. Eh, la vedo dura. La vedo molto dura. Onestamente non vedo tante soluzioni. Utahi quanto entra? Ah, nove. Nove però si tiene per fare la pedina. Forse... E comunque perché giocare Utahi? Sì, sì, sì. Sicuramente è meglio. Però la situazione comunque non aiuta. Nel senso che Uro comunque è inesorabile. Queste situazioni. Sì. E il vantaggio carta che fa Uro non lo fa nessuno in Magic. Sì, 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 sì. Poi anche la vita. Qua siamo a un passo dal danno da Commander. Però scavenging... E le creature cominciano ad essere un tot, eh. Bisogna trovare una vratta alla veloce. Sennò la situazione diventa complicata. È una terra, non so, se fosse proprio quello che voleva pescare. Il giocatore di... Ah, niente, niente, niente. Peccato, peccato. Molto vicino questa seconda partita. Molto, molto vicino. Beh, ci sono andati molto, molto vicino. Ma alla fine... Hanno vinti partner. No, alla fine hanno vinti partner. Hanno vinti partner. No, speriamo che questa partita vi sia piaciuta. È stata molto, molto tirata nella seconda parte. Nella prima, una serie di sfortunati eventi. Credo che abbia decisamente portato la bilancia da prendere da una parte. Speriamo che vi piaccia Centurion. Speriamo che vi piacciano i tanti video che ci sono sul canale. Le tante partite che potete vedere anche su Bocatrice. E speriamo che possiate darci un like. O commentare se c'è qualcosa di particolare che vi è interessato in questa partita. Condividete con i vostri amici. Iscrivetevi se vi piace al canale. Non possiamo che augurarvi di rivederci alla prossima partita di Centurion. Io sono Damian. Questo è Speck. Questo è Manobin. Alla prossima. Abbiamo voluto rischiare e dire... Ci si prova. Certo, magari non trovando Triad Harbor. Che era proprio l'unica carta che non si voleva trovare in questo momento. Un po' di sfortuna, in questo punto di vista. Qua una terra animabile rossonera. E qua arriva Croxa di nuovo. Eh, bisogna... Qua sommate... Grazie.